Amici di Mondo Futsal, buonasera e benvenuti dall'Agora Fitness per la finalissima del torneo Young Boys di fronte Fema Servizi, maglia nera e Jugglers, maglia nero e giallo Poi è lavorato da sinistra per Maula, poi subito la conclusione in porta da parte di Tosti Colpisce il palo con Galofero, le finte per Maula da sinistra, ancora per Galofero con il tacco L'occasionissima, ancora Galofero con il destro, la gran parata da parte di Vetta che mette in calcio d'angolo Masiello fuori per Tosti, il vantaggio di Fema Servizi con Tosti che impatta benissimo con il destro Riparte Jugglers da sinistra con Buonaccorso, va con il sinistro in porta, Vetta risponde Quindi gestisce il possesso chianese che allarga verso Masiello che si gira con il destro Ha provato il gran numero, Masiello si ha capitato Maula che recupera il pallone Serve Galofero da destra, prova ad accentrarsi, pallone per Dirazza, solo davanti al portiere Dirazza sbaglia, mette alto davanti a Vetta, ancora Dirazza per Galofero si accentra Non c'è spazio per il tiro, serve però Maula che prova a girarsi ma con il destro deviato E arriva il pareggio da parte di Maula, Tosti attende il pallone che invece arriva a chianese Poi Tosti, l'1-2 con chianese, ancora con Tosti, grande azione ma grande parata da parte di Del Mauro Va Tosti con il destro, la battuta e il gol del raddoppio da parte di Fema Servizi che trova il nuovo vantaggio Sempre con Tosti, 2-1 doppietta, poi di Fazio non ci arriva, Galofero centralmente, prova a puntare Riccio Va con il destro, la grande risposta da parte di Vetta Dirazza per Maula, che va con il destro, il pari da parte di Jugglers con Maula Riccio, spara con il sinistro, il giaconale vincente da parte di Lorenzo Riccio che riporta avanti Fema Servizi, 3-2, il gol di Riccio, Galofero contro Vetta Parte Galofero, mette sul fondo Chianese con il destro, uno schema per Riccio, poi ancora Chianese, Del Mauro, ci mette una pezza Ancora Chianese, avanza, palla a piede, Chianese con il destro La bordata di Chianese, 4-2 Fema Di Fazio, trova il gol del 5-2, spacca la porta Il numero 7, vediamo quale sarà la risposta da parte della formazione di Maglia Giallo-Nera Chianese si possesse nuovo il pallone, sempre Chianese centralmente Per Di Fazio, largo a sinistra, per Chianese Che chiude l'1-2, 6-2 Fema Servizi, di prima per Dirazza, se ne va Dirazza con il destro L'aria è spenta di Vetta, che mette in fallo laterale Poi libera il pallone sui piedi di Chianese, che cambia per Segretti Che con l'esterno destro, trova il gol del 7-2 Se ne va molto, molto bene Paolo Chiarucci Che accorcia le distanze, 7-3 Per provare a riaprire il match Va Dirazza con il destro, l'aria è spenta, di Vetta, che mette in fallo laterale La conclusione di Mosca È il gol del 4-7, riapre il discorso Jugglers con Mosca Fema Servizi, 7-4 Va Tosti con il destro, il piazzato vincente Di Tosti, 8-4 Gli risponde da campione Poi ancora Chianese Finta contro, finta per Masiello Che trova il gol dell'aria 4 E a questo punto La gara è virtualmente chiusa Ormai la gara praticamente finita La gran parata di Vetta sulla conclusione E poi ancora Vetta Da campione, interviene su Maula Ultimo minuto di gioco Va Vetta con il destro Il pallone che termina sul fondo Galofero danza sul pallone Le finte Serve Mosca Con il destro La gran parata Di Vetta Pronto Mosca Con il destro E la parata Ancora una volta di Vetta E finisce qui 9-4 Il punteggio La finalissima dell'edizione 2016 Dello Young Boys La vittoria va a Fema Servizi Che stand Jugglers Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti